Mezzogiorno di fuoco per la presentazione delle liste. Chi è dentro e dentro, chi è fuori e fuori. Con lo scoccare dell'ora X, con la scadenza dei termini, oggi per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative della città di Salerno si è chiusa la fase burocratica con un colpo di scena dell'ultima ora. Ai nomi dei candidati sindaco per la città di Salerno che erano circolati nei giorni scorsi, quest'oggi a sorpresa se ne è aggiunto un altro. Sono passati dunque a nove, non più solo otto, i candidati in corsa per la poltrona di primo cittadino della città. E così con il deposito delle liste dei candidati al Consiglio Comunale di Salerno di fatto si apre ufficialmente la campagna elettorale che porterà i cittadini alle urne il 3 e 4 ottobre prossimi. Sono 31 invece le liste complessive a sostegno dei candidati sindaco. In primis con il sindaco di Salerno uscente Vincenzo Napoli della coalizione di centro-sinistra che punta a mantenere la fascia tricolore ci sono nove liste in corsa. Progressisti per Salerno, Campania Libera, Salerno per i Giovani, Partito Socialista Italiano, Popolari e Moderati, Centro Democratico Salerno Viva, Europa Verde, Salerno Con Voi e Cattolici per Salerno. A sfidarlo il progetto civico della preside Elisabetta Barone con sette liste che vede anche il simbolo del Movimento 5 Stelle. Il centro-destra con l'avvocato penalista Michele Sarno conta sei liste, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega e una parte dell'Udc e nuovo PSI e tre liste civiche, seguito dalle tre civiche di Antonio Camarota della Nostra Libertà, due invece quelle a sostegno di Simona Scococza del Movimento Meetup. Mentre Maurizio Basso, Movimentiamoci, Giampaolo Lambiase di Salerno di Tutti, Oresti Agosto, la Città dei Semplici, fanno leva su una sola lista, così come l'ultima candidata che si è aggiunta, venuta fuori a sorpresa nelle ultime ore, Anna Maria Minotti con la lista Abilitiamo l'autismo H24. Insomma una batteria di candidati per questa competizione elettorale dove sono solo 32 i posti disponibili in Consiglio Comunale, tantissime liste, tantissimi candidati quasi mille.